ma che cavolo dove mi trovo che cavolo sei sono milo walker e tu milo lei è il nonno di spencer già non mi dire e lei è milo altro che se lo sono siamo morti lo sai mi stavo chiedendo la stessa cosa sono morto e mi sono trasformato in un piccolo muscoloso boy scout non siamo morti allora che storia è questa siamo dentro a un videogame chiamato jumanji e siamo entrati dentro ai corpi dei personaggi del videogame dobbiamo trovare spencer perché qui anche lui pensere il nipote di eddie si spencer è qui anche lui se è qui e dobbiamo trovarlo quindi è una situazione nascondino tipo io non mi acceco